In questa edizione del Tg8, corruzione e abuso d'ufficio, agli arresti domiciliari il vice sindaco di Erice. Trapani, sequestro e contestuale, confisca di beni nei confronti di Vito Cascio. A Trapani, incensurato e arrestato dalla polizia, mentre trasportava due chilogrammi di hashish. Sorpresi a rubare 20 chili di rame in un dissalatore, due arresti a Trapani. Partanna, simula di essere stato morso da un cane a randaggio, un uomo andrà al processo per tentata truffa ai danni del comune. Tumore della prostata, presso l'ospedale Paolo Borsellino di Marsala attiva la Fusion Biopsy. Reddito di maternità, raccolta firme anche a Mazzara del Vallo. Piano e stumulazioni al cimitero comunale di Mazzara del Vallo. Castelvetrano, l'elipista dell'ospedale Vittorio Emanuele, torna operativa anche di notte. Campobello di Mazzara, prorogati al 22 febbraio i termini per partecipare all'avviso per l'erogazione di interventi finalizzati alla permanenza o al ritorno in famiglia di anziani non autosufficienti. Vanessa Buscarino ha vinto con un suo disegno il concorso sul tema diversità, sogno e utopia. A Mazzara del Vallo la prima regionale del musical Cavalleria Rusticana. Terremoto al comune di Erice. All'alba di oggi i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Trapani hanno arrestato Salvatore Angelo Catalano, assessore e vicesindaco del comune di Erice, con le accuse di corruzione e abuso d'ufficio. L'ordinanza è di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Trapani su richiesta della locale procura della Repubblica. Catalano era stato indagato nel giugno del 2018 per reati che, secondo l'accusa, sarebbero stati commessi tra il 2016 e il 2017. Si tratta di uno dei filoni d'indagine su cui sta lavorando la procura, che ha passato a setaccio appalti e affidamenti diretti di opere pubbliche. Ma il vicesindaco aveva sempre negato di essere coinvolto. Il mio rispetto per la cosa pubblica è assoluto. Se ne stiano tranquilli i denigratori, che ad Erice si naviga con la barra dritta della legalità. Sebbene, purtroppo, come in ogni luogo di questo mondo, qualcuno può pensare di fare a modo suo. Ma io, nei limiti delle umane possibilità, l'ho sempre impedito, a costo di subire aggressioni e vigliacche anonime denunce, vigilando con i mezzi che la legge mi concede affinché la legalità e la trasparenza sia sempre e comunque garantita a tutela dei cittadini vicini che, con il loro voto, ci hanno dato fiducia. Sono stati sequestrati e contestualmente confiscati beni per 30.000 euro a Vito Cascio di 37 anni a Trapani. Gli agenti della Polizia di Stato della divisione anticrimine hanno dato esecuzione al provvedimento. Tra i beni posti a sequestro ci sono un bar con annesso centro elaborazione dati ed internet point nel rione Sant'Alberto di Trapani, un autoveicolo e un motociclo. Le risultanze delle indagini, che hanno interessato Vito Cascio, pluri pregiudicato con diversi precedenti per reati contro la persona e lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno evidenziato, oltre alla concreta ed attuale pericolosità, che i beni da lui posseduti sono stati acquistati con soldi frutto di attività illegali. Sia l'autovettura che il motociclo e il bar, sebbene intestati alla compagna, sono da ricondurre nella disponibilità di Cascio. Secondo gli inquirenti, tutti i beni sono frutto dell'attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Cascio negli ultimi anni aveva organizzato un vasto commercio di droga con un complice nella sua abitazione dove vi era un continuo andirivieni di persone. Nel novembre del 2017, gli agenti della squadra mobile della questura di Trapani effettuarono una perquisizione nell'abitazione di Cascio, trovando eroina, hashish e denaro provento dell'attività di spaccio. Sia Cascio che il complice furono arrestati. Nella tarda serata di ieri, la squadra mobile di Trapani ha tratto in arresto il trapanese La Francesca Michele, di anni 38, il quale, a seguito di un controllo effettuato dagli agenti della sezione antidroga impiegati in servizi di prevenzione a Castellammare del Golfo, è stato trovato in possesso di circa due chilogrammi di hashish. L'uomo è stato controllato mentre alla guida della sua autovettura si trovava in località Castellammare del Golfo, insieme alla compagna CF di anni 24, che è stata denunciata a piede libero a titolo di concorrente nel reato. Sotto il sedile lato conducente, i poliziotti hanno rinvenuto un sacchetto di plastica contenente 19 panetti di hashish, 10 dei quali sigillati con un unico blocco e 9 sfusi dal peso complessivo di circa 1,9 chilogrammi. Una successiva perquisizione, stavolta effettuata presso l'abitazione dei predetti, ha permesso di rinvenire un ulteriore panetto della medesima sostanza stupefacente dal peso complessivo di circa 90 grammi. Dopo le incombenze di rito, l'arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Trapani, dove rimarrà a disposizione delle autorità giudiziarie. Tale arresto rappresenta l'ennesimo frutto dell'azione di contrasto al traffico di stupefacenti, che la questura di Trapani ha da ultimo incentivato anche nel territorio della provincia. Infatti, nella medesima giornata, gli agenti della squadra mobile del commissariato di pubblica sicurezza di Marsala hanno sequestrato circa 40 dosi di marijuana già confezionate e pronte allo spaccio, nonché circa 150 grammi di infiorescenze di cannabis rinvenuti presso l'appartamento di due extracomunitari di origine nigeriana, domiciliati nel centro cittadino marsalese. Sono stati sorpresi a rubare cavi di rame all'interno di un distalatore di Trapani. I carabinieri hanno arrestato Antonio Di Salvo, trapanese di 23 anni, e Ignazio Messina, trapanese di 27 anni. A causa dei numerosi furti subiti, i carabinieri tenevano sotto controllo l'impianto. Proprio durante uno dei controlli, i militari hanno notato uno scooter e sono così entrati all'interno. I due sono stati sorpresi dentro la struttura mentre stavano tentando di rubare gli avvolgibili in rame. I due malviventi stavano portando via 20 chili di rame e strumenti vari utilizzati per il taglio del materiale, ma i due sono stati bloccati. Gli attrezzi sono stati sequestrati, mentre il rame e il trasformatore sono stati restituiti ai responsabili del distalatore. Di Salvo e Messina sono stati arrestati e portati in carcere a Trapani, così come disposto dall'autorità giudiziaria competente in attesa di udienza di convalida. Sostiene di essere stato morso da un cane randaggio quando in realtà era stato attaccato dall'animale domestico di un privato per richiedere con fraudolenza un cospicuo risarcimento al comune. Un uomo, residente a Partan, è stato citato in giudizio per attentata truffa all'ente locale dinanzi al tribunale di Sciacca in base all'articolo 56 del codice penale perché, mediante artifici e raggiri, si recava presso la guardia medica locale per farsi refertare dalle lesioni dovute al morso del cane, dichiarando falsamente, si legge nell'atto quindi di citazione in giudizio, di essere stato attaccato da un randaggio mentre in realtà era stato aggredito dall'animale di un concittadino. L'uomo avrebbe poi presentato tutta la documentazione medica attestante le lesioni riportate per addossare la responsabilità all'ente locale e cercare di ottenere un ingiusto profitto in danno del comune che, accorgendosi della richiesta fraudolenta, respingeva la pretesa di risarcimento. Adesso l'uomo dovrà presentarsi in udienza il prossimo 24 maggio per rispondere del reato commesso per il quale si rischia la reclusione da sei mesi a tre anni e una multa che va da 51 a 1032 euro. Il maldestro tentativo di raggirare l'ente locale, afferma il sindaco Nicolo Catania, si è concluso con la citazione in giudizio della persona in questione e con un procedimento penale a suo carico, che vede il comune come parte offesa. Una storia di furbizia spicciola che si è ritorta contro lo sprovveduto truffatore. Sono stati aggiudicati in via provvisoria i lavori di estumulazione nel reparto 11 del cimitero comunale di Mazzara del Vallo. Ad aggiudicarsi la gara l'impresa edile Anastasi Leonardo, che ha effettuato un ribasso del 46,99% su un importo a base d'asta di 70.526 euro. Sono in corso intanto i lavori per le estumulazioni ordinarie nel reparto 10 al cimitero comunale da parte della ditta Giacalone Gaspare di Mazzara del Vallo. Complessivamente, entro il mese di marzo 2019, verranno liberati 750 loculi, che consentiranno di superare le criticità in materia di sepolture. Progettista e responsabile unico del procedimento, l'ingegnere Pietro Calandrino, direttore dei lavori Il Geometra Alberto Gancitano, entrambi dell'Ufficio Tecnico Comunale. Campobello di Mazzara, prorogati al 22 febbraio i termini per partecipare all'avviso per l'erogazione di interventi finalizzati alla permanenza o al ritorno in famiglia di anziani non autosufficienti. L'amministrazione comunale rende noto che sono stati prorogati al 22 febbraio prossimo i termini per la partecipazione all'avviso pubblico relativo a interventi finalizzati alla permanenza o al ritorno in famiglia di anziani ultra 75 anni non autosufficienti, emanato dall'assessorato regionale della famiglia e delle politiche sociali ed erogato attraverso i comuni. L'intervento consiste nella concessione di un buono servizio voucher per l'acquisto di prestazioni sociali o sociosanitarie in favore di soggetti anziani over 75 non autosufficienti e perseguire misure finalizzate al concorso delle spese sostenute dalla famiglia per la retribuzione di un assistente familiare iscritto all'albo dei badanti ed eventuali altre misure atte a favorire la permanenza o il ritorno in famiglia degli anziani, quale alternativa al ricovero presso strutture residenziali. Trattandosi di una forma di sostegno economica rivolta al caregiver familiare, la concessione del buono sarà dunque modulata secondo i limiti di reddito determinati in funzione dell'isee familiare, che dovrà avere un valore massimo di 7.000 euro. Per maggior informazione sui requisiti necessari e sulle modalità di partecipazione è possibile consultare l'avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Campobello all'indirizzo www.comunedicampobellodimazzara.tp.it. L'elipista dell'ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetrano ha ricevuto l'autorizzazione all'operatività notturna da parte dell'ENAC, ente nazionale aviazione civile. L'ufficio tecnico dell'ASP Trapani lo ha comunicato alla centrale del 118 per consentire, nei casi di emergenza, l'atterraggio e il decollo notturno agli elicotteri. L'attività era stata sospesa dallo scorso 3 dicembre proprio per la mancanza dell'autorizzazione dell'ENAC. Dopo il sopralluogo da parte del tecnico e le prescrizioni previste, è arrivato l'ok che ripristina l'attività notturna in caso di emergenza. A partire da febbraio, l'unità operativa di urologia di Marsala, diretta dal dottor Emanuele Caldarera, attiverà l'impiego della tecnica Fusion, finalizzata alla precisa localizzazione di tumori della prostata attraverso l'esecuzione di prelievi bioptici mirati. Si tratta di una metodica innovativa che, tramite la fusione dell'immagine ecografica e quella della risonanza magnetica multiparametrica, consente di realizzare una mappa tridimensionale della biopsia, utile a ricostruire con maggiore precisione la localizzazione e il volume del tumore. La Fusion Biopsy è una tecnologia che consente di ottenere una diagnosi precoce e accurata del tumore della prostata, ha spiegato Caldarera. La neoplasia maschile più diffusa nel mondo occidentale. Siamo molto contenti di aver acquisito anche questa metodica, grazie alla lungimiranza della nostra direzione strategica e alla fattiva collaborazione con l'equip dell'unità operativa di radiologia, diretta dal dottor Rosario Urso. Siamo certi di poter offrire alla nostra utenza un sistema d'avanguardia per la diagnosi precoce del tumore della prostata e siamo orgogliosi che quello di Marsala sia il primo e unico centro pubblico della Sicilia occidentale a mettere a disposizione dei cittadini questa importante possibilità. L'evoluzione delle strategie diagnostiche e le innovazioni nella ricerca, nella tecnologia e nella terapia del tumore della prostata, saranno al centro del convegno Carcinoma Prostatico, approccio terapeutico multidisciplinare, che si svolgerà a Marsala sabato 9 febbraio presso il poliambulatorio Morana Salus. L'obiettivo di questo momento di confronto, ha sottolineato il dottor Emanuele Caldarera, responsabile scientifico del convegno, è poter analizzare gli aspetti teorici e pratici dell'approccio multidisciplinare e stimolare le diverse figure specialistiche al fine di creare un'azione sinergica. Una firma per riconoscere 1000 euro al mese alle neomamme che si dedicano in via esclusiva alla famiglia. Il reddito di maternità è una misura rivoluzionaria che pone al centro la bellezza della maternità e i diritti delle donne, dando loro la concreta possibilità di diventare mamme e di prendersi cura della famiglia a tempo pieno. La società di oggi ci fa credere che una donna vale nella misura in cui lavora producendo reddito, ma le mamme che si dedicano alla famiglia, H24, non sono solo donne di serie B. È l'insostituibile funzione sociale che svolgono e indispensabile per tutta la società. Questo ha dichiarato Elena Di Pietra, responsabile del popolo della famiglia in provincia di Trapani, in vista della raccolta firme che si terrà a Mazzara del Vallo venerdì 1 febbraio dalle ore 18 alle 20 presso il bar Gelateria Coppetta in Corso Umberto Primo 27. In questo paese dalle culle vuote a continuato Di Pietra, fortemente segnato dalla crisi economica, dalla disoccupazione e dalla precarietà del lavoro, occorre tornare a credere che i figli siano una ricchezza e il reddito di maternità è un provvedimento strutturale realmente capace di invertire la rotta, dando un aiuto concreto e consistente a tutte le donne che desiderano avere un figlio, ma anche un'alternativa praticabile alle donne che decidono di abortire per problemi economici. Un'indenità pari a 1000 euro al mese per i primi 8 anni di vita del figlio che diventa vitalizia alla nascita del quarto figlio o alla nascita di un figlio disabile. Firmare per il reddito di maternità, ha poi concluso, significa mettere al centro la cultura della vita attraverso un importante sostegno economico alla maternità, che rende le donne libere di essere mamme. Vanessa Buscarino, ragazza prodigio, 13enne, ha vinto con un suo disegno il concorso sul tema diversità, sogno e utopia all'evento Notte Nazionale del Liceo Classico, organizzato dal Liceo Classico Gian Giacomo Adria Ballatore di Mazzara. Vanessa, che frequenta la terza classe della sezione E dell'Istituto Comprensivo, è anche poetessa in erba. Ha scritto infatti diverse poesie, una delle quali ha avuto riconoscimenti con pubblicazione anche sui social per il forte senso ecologico, con la quale la ragazzina ha invitato al rispetto dell'ambiente e a non trascurare la raccolta differenziata. La giovanissima Buscarino si prodiga inoltre nell'arte teatrale, partecipando alle rappresentazioni dove recitano mamma Mariella San Maritano e Papa Vito. A scuola, come si può ben immaginare, è una delle più brave. È iniziato il countdown per la prima regionale a Mazzara del Vallo del musical Cavalleria Rusticana, prodotto e diretto dal regista campobellese Piero Indelicato. Lo spettacolo andrà in scena il 7, l'8 e il 10 febbraio al Teatro Rivoli. Nutrito il cast, tra cui figurano, oltre allo stesso Piero Indelicato, Girolamo Cristaldi, Irene Bonanno, Dario Vallone, Lori Fontana, Carmela Gancitano, Anna Attademo, Serena Asciuto e il giovanissimo Valerio Indelicato, promessa del teatro italiano. Il musical, che si attesta come l'evento teatrale di questo nuovo anno, rappresenta un ennesimo lavoro cui Piero Indelicato ha dedicato le sue energie artistiche dopo aver messo su un'attività teatrale finanziata con fondi anti-usura. Indelicato infatti è vittima di usura e ha deciso di destinare l'aiuto ricevuto dallo Stato al teatro, trasformando in lavoro quello che prima era solo un hobby. Dopo la fortunata rassegna dello scorso anno tra Mazzara, Del Vallo, Campobello e Castelvetrano, adesso dunque si ricomincia con un classico della drammaturgia siciliana, per cui la preparazione e il cast è al lavoro con grande armonia. Il 7 e l'8 febbraio lo spettacolo andrà in scena alle ore 21, mentre il 10 febbraio alle ore 18. Per informazioni e prenotazioni si può chiamare al 327-200-6545.